Corrisciuta per un'altra... Siamo grandi! Abbiamo adesso Ettore Coni e il Benkei. Per lo dire, me l'hanno definito rock condominiale. Benkei, al basso Andrea Salvatore. Alla batteria Lady Neverpitch. Alla guitarra il nostro frontman, il nostro ragazzo immagine, che per lo che spero mi lascia il posto, il sintetico Vazzeus. Aperolto Alla guitarra il nostro canale. Alla guitarra il nostro canale. Quanto lo amavi, sempre lui. Sem sa parola. Sempre lui. Quanto lo amavi, sempre lui. è un'imitimissima è un'imitimissima è un'imitimissima è un'imitimissimo è un'imitimissima Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.